Giovedì 7 luglio, benvenuti con l'informazione di VercelliWeb.tv. Un accoltellamento sfociato in un omicidio ieri sera a Rione Concordia di Vercelli, i particolari nel servizio. Potrebbe trattarsi di un problema di soldi che ha portato Alessandro Rizzi, 23 anni, a uccidere con diverse coltellate nella giornata di ieri l'amico Daniel Napoletano di 24 anni. L'omicidio è avvenuto ieri sera in una palazzina popolare a Rione Concordia di Vercelli. Napoletano sarebbe stato accoltellato nel suo appartamento e il fuggito veniva raggiunto da Rizzi che lo avrebbe nuovamente colpito provocandone la morte. L'omicida, tornato nell'appartamento, ha gettato il coltello utilizzato per colpire giù dalla finestra. L'arma è stata successivamente ritrovata dalla polizia, giunta sul posto. Napoletano lavorava come magazziniere, mentre Rizzi, con precedenti penali alle spalle, è studente universitario. L'omicida è stato arrestato e si trova ora in carcere. La polizia di Vercelli ha arrestato un cittadino marocchino di 34 anni, già ricercato per diversi reati penali contro la persona e per spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato intercettato dagli agenti della volante, mentre era in bicicletta in corso Papa Giovanni Paolo II. Alla vista degli agenti, aumentava l'andatura insossoettendo la pattuglia. Fermato, essendo l'uomo senza documenti, veniva portato in questura, dove si accertava che era già noto alle forze dell'ordine con nomi diversi. Mediante la verifica delle impronti digitali contenute nell'archivio automatizzato delle questure, il soggetto veniva identificato e portato in carcere per i reati sopradescritti. Vi abbiamo dato conto, nel telegiornale di ieri, del blitz dei carabinieri di Novara, che hanno scominato una banda di ricettatori che agiva tra Piemonte e Lombardia. Sono accusati di aver immesso sul mercato oggetti preziosi provenienti da almeno 400 furti commessi nelle due regioni nel 2015 e nel 2016. Le forze dell'ordine hanno posto in stato di fermo ben 42 persone, oltre ad aver sequestrato beni per circa 3 milioni di euro. Al centro dell'attività criminale, due famiglie di sinti che dai campi nomidi di Milano gestivano tutta la raccolta e lo smercio della rifortiva. Famiglie con ganci importanti, tanto da riuscire a partecipare, attraverso un loro contatto, alla Fiera dell'Oro di Monaco di Baviera. Tra le ramificazioni, il camposinti di Ghislarengo, nella nostra provincia. L'asli di Vercelli, in una nota, racconta nei fatti l'episodio avvenuto ieri presso la piastra dell'ospedale di Vercelli. Nella sala prelievi si stavano svolgendo, come in mattina, gli abituali prelievi di sangue. Un utente ha avuto un mancamento e il personale si è prontamente attivato facendo distendere il soggetto e somministrando dello zucchero. Nel frattempo, la donna che lo accompagnava ha contattato alcuni conoscenti che si trovavano, presumibilmente, nella sala d'attesa. Questi entravano in modo repentino nella sala prelievi, accalcandosi, urlando intorno al paziente e non lasciando spazio d'azione all'infermiere. All'un certo punto, il paziente ha ripreso coscienza e ha iniziato a tirare calci e pugni colpendo il personale infermieristico che lo stava soccorrendo. Chiamati, sono prontamente intervenuti i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze per la ricostruzione dei fatti. Le infermieri interessate sono state accompagnate a loro volta al pronto soccorso per gli accertamenti necessari. La proniosi è di alcuni giorni. Protesta questa mattina di fronte al Comune di Vercelli da parte degli operatori degli asilini comunali. All'origine, i continui ritardi nel pagamento degli stipendi da parte della cooperativa che gestisce in appalto il servizio. Sentiamo le ragioni della protesta direttamente dalle voci delle maestre. Siamo venute qui oggi perché la situazione lavorativa di quest'anno è stata abbastanza problematica. Abbiamo avuto grossi ritardi sui pagamenti degli stipendi di 4-5 mensilità. Gli accordi con la prefettura non sono stati rispettati e quindi ci è sembrato giusto farci sentire perché offriamo un servizio importante e delicato e non abbiamo avuto grossissimi riguardi nei nostri confronti in tutto l'anno. Sono state pagate tutte le mensilità e gli arretrati non lo sappiamo, nel senso che manca ancora qualche arretrato di qualche assegno familiare che non era stato versato. Sembrerebbe di sì, però la certezza sugli arretrati al momento non ce l'abbiamo ancora. Il mese di giugno, sì, noi in genere riceviamo i pagamenti il fine del mese dopo, quindi in teoria a fine luglio noi dovremmo ricevere il mese di giugno. Speriamo che sia rispettata la puntualità nel pagamento. Loro sono Marzia, Francesca, Paola, Sara, Elena, io sono Anita e poi abbiamo tante altre colleghe che però al momento alcune non sono potute venire, altre stanno prestando servizio al centro estivo comunale che comunque è partito nonostante gli accordi non siano stati rispettati. Non è facile per noi andare a lavorare e non essere retribuite, quindi ci teniamo a sottolinearlo, anche perché il lavoro che facciamo è un lavoro delicato con i bambini. La situazione è stata una situazione pesante che è durata per diversi mesi, e quindi speriamo che in futuro non si ripeta, assolutamente. Auspico che questa azione possa continuare e quello che mi piace è essere tutti uniti insieme ai sindacati a sostegno di coloro che lavorano, perché è giusto, è un diritto che è legato alla nostra Costituzione. Devo ringraziare il personale perché nonostante le difficoltà nel recepire i loro stipendi, si sono sempre resi disponibili e non hanno fatto mancare un minuto del loro servizio presso i nidi. Quindi un grazie particolare va a loro. Un migliaio di euro è questo la montare dei danni che i vandali hanno procurato alla piscina comunale Exenal di Vercelli. Per tre notti ci sono stati dei ride con cavi tagliati, sacchi di immondizie gettati in acqua e furti al bar. Al fine di porre termine a questi atti di vandalismo, la gestione della piscina ha dotato la stessa della sorveglianza notturna. Si cercano i vandali, soggetti sui quali stanno indagando i carabinieri. Si chiama UECO, è situato in corso Garibaldi XV, a pochi passi dal centro e dalla stazione ferroviaria, ed è aperto ieri. Si tratta di uno spazio di innovazione e co-working aperto a freelance, progettisti, professionisti e aziende di settori differenti, la cui vicinanza, sia fisica che di network, stimola e favorisce un continuo scambio di idee, conoscenze e opportunità. Sentiamo uno degli ideatori, Alberto Perfumo. È un tema che ci ha affascinato fin dalla campagna elettorale di Siamo Vercelli, che è legato all'evoluzione che ha il mondo del lavoro. Un lavoratore su tre negli Stati Uniti oggi è un freelance, quindi la società deve assolutamente attrezzarsi per stare al passo con questi fenomeni. Noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato quando io sono stato in Giunta, incontrando responsabili dei co-working di altre città, soprattutto di città delle nostre dimensioni, perché può essere un po' diverso realizzare uno spazio condiviso, a disposizione di professionisti, freelance, giovani, start-up per piccole imprese, in una città delle nostre dimensioni rispetto a una grande città. Dicevo, ci abbiamo lavorato sopra per un po' di tempo, abbiamo continuato a farlo quando io sono uscito dalla Giunta e l'abbiamo fatto a livello volontario, secondo me questo è il vero volontariato politico, realizzare delle cose per la città e il co-working è sicuramente un'opportunità. Lo mettiamo a disposizione di tutti quelli che ne hanno bisogno, è aperto a persone di diversa provenienza, di diversa estrazione, background lavorativo e scolastico. In particolare ci piacerebbe che diventasse un'occasione di sviluppo davvero di nuove idee e di rete tra professionalità diverse. Per quest'oggi è tutto, appuntamento con l'informazione di vercelliweb.tv. A domani. Grazie. Grazie.